De Luca ha detto che dalla viglia un'azione infame ed eversiva, si aspettavano le scuse e è andata male. Beh, sono parole che vanno anche lette come un tono distensivo. Ha detto? Infame ed eversiva l'azione della viglia. Però non ha detto criminale, quindi essendo solo infame ed eversiva c'è un segnale che va nel senso della distensiva. Sono francamente espressioni, io chiedo scusa se le declino verso il tono scherzoso, ma è anche quasi notte. Però effettivamente sono espressioni che non dovrebbero avere cittadinanza. Secondo me nel dibattito pubblico tra gruppi dirigenti, classi dirigenti, stiamo parlando di un'istituzione come la Commissione Parlamento dell'Antimafia della sua Presidente e comunque penso che non dovrebbero avere cittadinanza negli organismi dirigenti del Partito Democratico.